fratelli sorelle amici pace del signore buona giornata a tutti quanti voi 30 agosto si sta avvicinando la conclusione anche di questo mese leggiamo questa mattina nell'epistola agli ebrei leggeremo al capitolo 13 nel verso al capitolo 12 scusate nel verso 11 dove è scritto è vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia ma tristezza in seguito tuttavia produce un frutto di pace di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa certamente a nessuno piace essere corretto ricorderemo sicuramente che quando eravamo bambini la correzione e la punizione ci facevano sentire tristi e spesso ci ritenevamo colpiti ingiustamente infatti non è detto che le correzioni che abbiamo ricevuto fossero tutte giuste perché i nostri genitori e noi da genitori delle volte possiamo correggere anche quando ciò non è necessario ma come cristiani non siamo nati da sangue né da volontà di carne ma avendo creduto in cristo gesù siamo nati da dio ed abbiamo quindi ottenuto il diritto di diventare figli di dio e abbiamo un padre che quando esercita la correzione sicuramente non lo fa in modo inappropriato ma lo fa in modo giusto e quindi quando egli nel suo infinito amore ci corregge ha uno scopo ben preciso sicuramente più profondo il dirotturo di quello che i nostri genitori carnali magari potevano avere infatti egli vuole correggerci affinché noi possiamo essere partecipi della sua santità e suo scopo quindi è quello di eliminare il disordine che è in ciascuno di noi incrementando la grazia che ci consente di diventare sempre più a sua immagine e somiglianza le afflizioni non sono gradite la nostra carne le riceve con sofferenza tanto da farci gemere e lamentare ma guardiamo al frutto al risultato consideriamo quello che il signore riesce a creare in noi per mezzo della correzione perché quando egli agisce in tal senso egli ci distoglie dalle vie sbagliate per mantenerci sulla via della giustizia ricordiamoci perciò che come dice la parola di dio siamo da parte del signore corretti anche se egli non vorrebbe farlo perché dice la scrittura che non è volentieri che gli umilia e affligge l'uomo ma lo fa appunto perché amando ci desidera che in ogni cosa possiamo essergli a lui graditi e non arriviamo così a perdere la vita eterna e quando ci vediamo sottoposti da dio ad una prova cerchiamo subito di capire qual è l'insegnamento la correzione che il signore ci vuole dare attraverso quell'esperienza anziché protestare affliggerci chiedendo scusate chiediamo allo spirito santo di farci intendere l'intenzione di dio e di aiutarci anche ad assecondarla quell'intenzione cioè a sottometterci alla correzione a prendere i provvedimenti necessari affinché qualche difetto che c'è in questo vaso d'argilla possa essere corretto e lo possa essere nel più breve tempo possibile perché in questo modo noi affretteremo il termine della correzione e permetteremo così al signore di raggiungere i suoi scopi in modo molto rapido un'altra considerazione che dobbiamo fare è che dobbiamo accettare con allegrezza con gioia la disciplina perché come detto altre volte è una prova innanzitutto dell'interesse che il signore ha per la nostra salvezza ma anche del suo amore perché gli riprende coloro che ama e perciò non dobbiamo avere delle reazioni bambinesche dinanzi alla correzione di dio anche perché se siamo figli del signore dobbiamo crescere e dobbiamo mostrarci sempre persone mature che sanno accettare da dio tutto quello che gli viene dato con la consapevolezza che tutto copra per il nostro bene perciò lasciamoci correggere dobbiamo essere docili dinanzi alla verga del signore che vuole operare nella nostra vita permettiamo allo spirito santo di poter plasmare secondo la volontà del padre la nostra vita facciamo sì che veramente in ogni cosa possiamo essere gradite al signore e questa consapevolezza ci possa accompagnare non solo oggi ma tutti i giorni della nostra vita perché per certo le correzioni del signore non finiranno fino a quando saremo su questa terra ma quando saremo nel cielo non ci sarà più bisogno di correggerci perché allora saremo simile a suo figlio gesù cristo e lì potremo godere della presenza di dio della grazia di dio della benedizione di dio in modo pieno totale e in vista proprio di questo vogliamo ancora oggi dire signore sono qui davanti a te opera nella mia vita secondo la tua volontà e dammi un cuore umile e mansueto in modo tale che in ogni cosa possa essere sottoposto alla tua parola e possa ubbidire alla voce del tuo santo spirito la pace di dio il suo amore la sua grazia ci accompagnano ancora oggi dio ci benedica insieme grazie a tutti grazie a tutti